Un pioniere, un intellettuale, un uomo politico, fu fatto prigioniero dai nazisti quando aveva 20 anni. Fiore di Sciascio è morto a 92 anni nella sua casa di Pescara, lasciando dietro di sé il ricordo di una personalità attiva, forte e vitale. Fuggì dalla prigionia, eludendo il controllo dei tedeschi che l'avevano portato a manoppello, sottoponendola a interrogatori e maltrattamenti. Subito dopo si laureò a Napoli in ingegneria. A Pescara, dal 1956 al 1975, fu attivo politicamente come consigliere, assessore comunale, rappresentante della DC guidata da Antonio Mancini. Fu insegnante all'Istituto Tecnico Industriale Volta. Partecipò alla redazione del piano regolatore di Pescara nel 1959. Si occupò della costruzione dell'odierno stadio adriatico. Nelle successive legislature alle quali si candidò, quelle del 60, del 64 e del 70, risultò tra gli eletti sempre con ampi consensi. Le deleghe ricoperte furono quelle dell'edilizia e dell'urbanistica. Nel 1991 gli venne conferita la Gran Cruce al merito dall'Accademia Internazionale per le Scienze Economiche e Sociali e Ispettore Prefettizio per le opere in cemento armato. A partecipare alla cerimania funebre questa mattina, presso la Cattedrale di San Cetteo, tanti amici, parenti e anche istituzioni pubbliche, come il sindaco Marco Alessandrini, che a lui ha rivolto parole di stima, dichiarando che con fiore di sciascio scompare un pezzo dell'identità amministrativa della città di Pescara.